I didn't even get to go Ciao ragazzi, oggi, 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 e se non avete capito, oggi, oggi, faremo il ritorno della Sai che è buono, ma con il pezzotto del M&T, signori e signori, vi presentiamo BOMBARTI! SIGLA! Bene ragazzi, andate a prendere l'acqua calda perchè come ben si mette la stessa letta, ora mette l'acqua così, casomai abbiamo pure la stessa letta, perché la stessa letta, ora mette l'acqua così, casomai abbiamo pure la stessa letta, perché la stessa letta, ora mette l'acqua calda, l'acqua, signori e signori, OBRARE CA FURCHETTA manzo, 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 vedi? Si vede il cinesino? Eh, è un po' sfogato però, vediamo un po' che fermo con la mano, banza! Ok! Uo, ma è una pezza di povero! Ma penso ci voglia più acqua, non penso un po' d'acqua, un po' di mister muscolo! No, ci vuole più acqua! Che schife! Aspetta, aspetta! Aspetta! Se non perdi tutta l'aroma, un po' di polvere del cinese! Vada! Vini, vini, no! No, basta! Tu che mi hai fatto buonare la legge d'olta? Perché in questa natività devi andare! Ma ora mi hai detto che tu hai bloccato la fucchetta! Aspetta! A te devi mettere ancora l'acqua, a figlio! No! Allora, da premettere, però dobbiamo, per esempio, noi che abbiamo fatto, sai che è buono? Sì! La stalla, ancora acqua, No! Basta, basta! No, non c'è! Basta! No, non c'è! No, non c'è! Stanno mi chiedendo pietà che si sta a fucuare! No, non c'è! No, non c'è! No, non c'è! Vado a premettere che il sake bon originale subito con l'acqua si scioglieva! Sì, sì! Pure la faccia! Ah, non c'è! No, non c'è! No, non c'è! Non c'è una voce! No, non c'è una voce! Sono tanto arrivato all'ombra! No, no, no! No! Abbiamo anche 15 anni, 20 ragazzi! ragazzo da amato stracci dentro stico e ragazzi analizzano l'acqua abbiamo aspettato da notare a fumo signora mi svolgo l'acqua l'acqua buona fettina allora ci ha preso una punzola ragazzi non cassa una pallina pallini caro di è veramente un bucciato per un piacere prego si venga ragazzi fai schifo vabbè però comunque costano cento e centesimi l'uno passabile rapporto qualità prezzo rispetto alla serie buono originale da level 30 io cesso meno 2 ma c'è vero non so sulle nuove nuova in acqua ah sinceramente urs 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 passiamo al secondo che dice gusto quasi polvo gusto prova anche prodotti prova anche il manzo esatto odore perchè è la cacata del polvo è la cacata del polvo eh Tommaso ho vinto ho vinto Tommaso solo per voi sono a fare l'altra qualche stanza ma per voi tutti è l'elvera del dove fanno la pipì i cani insomma insomma ahahah ahahah passiamo al prossimo ragazzi ragazzi passiamo al terzo perchè non so non so non so non so non so che l'ho fatto portare il cucino perchè non so non so che non so fatti chissà, non li sai mangiare ma non mangiare non mangiare non mangiare no non mangiare ingoria ingoria è buonissima io già la faccio guarda il prezzo proprio c'è sfragile di là alzare la testa non 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 ma non oh 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 cioè io che faccio a mandare questo ma qui stai facendo un po' solo stai tirando tutto il tuo muro 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 ma che stai stai cagando muro wow stai tirando non ti schifo ehi oh ingoia 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 bevi 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 ce l'aceto dentro non basta stai io l'abbiamo fatta si ragazzi sono una cosa di descrizione cosa fa se manzai a me questa è una cosa di unico solis sta normale ma quello la manzo è la puro quello la quello la quello la in guida ma in guida ma profonda è cazzabile intermedio 70 30 30 meno 2 20 20 20% allora in guida di burlo è questo è questo qua c'è robigliano ragazzi comunque è stata una brutta non non davvero non Sì, sì, buono! Sì. Non ho mai sentito un giorno da niente. La stai versando di un boom. La stai versando di un boom. La stai versando di un boom. Il BASS. Il BASS. È la stessa. Non ho mai provato a". Non gli ho provato a me. BASSA. bene ragazzi dopo quest'altro video comitevole di Tommaso con i suoi ducchi a scoleggio che ha fatto c'è mancato poco ma mi sento proprio un po' un olore un malore esagerato infatti mi comore acqua perché devo bene ragazzi abbiamo finito anche con questo video se il video vi è piaciuto lasciate tanti posti di youtube iscrivetevi al nostro canale qui sotto troverete tutti i nostri link del nostro canale e del mio box e qui sopra troverete la campanella ma la sua pagina la troverete qui sotto ma nel mio canale la troverete qui sotto ma nella tua pagina è qui sotto quindi ragazzi se il video vi è piaciuto passate anche al secondo canale che si chiama parlo di musica dedicate solo alle parodie di musica iscrivetevi al canale mio, suo, suo, vostro e nostro se il video vi è piaciuto noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti